ciao sono franco p di all4shooters oggi vi parliamo del accolade della pulsar xp50 lrf si tratta di un binocolo termico con un misuratore delle distanze laser il pulsar accolade xp50 lrf è un binocolo termico con capacità di telemetria laser che misura fino a circa mille metri di distanza o mille yard in inglese è basato su un microbolometro con una risoluzione di 640 x 480 pixel con un pixel pitch di 17 micrometri ed è in grado di misurare o meglio di detectare un obiettivo a circa 1,8 chilometri di distanza è veramente interessante perché il modulo di telemetria laser è perfettamente integrato nello chassis dello strumento non ha proiezioni strane degli aggetti che rendono difficile il maneggio dell'apparecchio anzi addirittura sono più il fatto di avere questo modulo che leggermente sgonfiato rispetto alla struttura della parte destra ne permette un maneggio migliore ed è più ergonomico l'interfaccia utente è la stessa identica dell'XP38 che abbiamo già provato su all4shooters.com e tutto il resto dell'apparecchio è paragonabile salvo per la funzione laser range finding proviamo a fare delle misurazioni cominciamo con qualcosa di vicino 81 metri prendiamo quella pietra miliare laggiù in fondo 135 metri proviamo con qualcosa di più lontano 238 metri la funzione di telemetro laser della collade è molto veloce e anche abbastanza precisa direi che si tratta di un livello paragonabile a quello di un normale telemetro laser di fascia medio alta è molto veloce con in più il vantaggio innegabile di presentare l'immagine termica di quello che noi stiamo misurando una qualche cosa che non si può avere con nessun altro strumento